Buonasera e benvenuti a questa puntata del lunedì di HV24, intanto saluto Alberto che è qui con me, ciao Alberto. Buonasera a tutti. Con lui parleremo del B2B che è stata un'esperienza davvero importante del Verona durante questa settimana, ma iniziamo dalla partita perché domani si gioca, si gioca D'Avellino, Alberto, abbiamo giocato noi il venerdì, D'Avellino è sceso in campo il lunedì, una squadra che sta facendo bene. È una squadra in salute, lo ha ribadito anche Pecchia in conferenza stampa che poi ha un modo di ascoltare, nelle ultime cinque partite due vittorie e tre pareggi, l'ultimo 0-0 appunto ottenuto sul campo del Trapani e non sarà assolutamente una partita facile. Squadra che già D'Avellino è ritiro, ha parlato Luppi in settimana, l'ha fatto in radio, concetti molto chiari, sicuramente quella del Benevento è stata una partita diciamo dai due volti perché alla fine poi guardando i numeri il Verona avrebbe meritato sicuramente di più anche se il gol è arrivato solo al novantesimo. Assolutamente, i numeri parlano chiari, un Verona che ha costruito di più del Benevento ed un Verona che da quella prestazione deve ripartire, soprattutto dall'ultimo quarto d'ora, un Verona a testa bassa ha cercato in tutti i modi prima di pareggiare e ce l'ha fatta e poi anche di vincere la partita e da lì si riparte appunto verso l'Avellino su un campo storicamente anche difficile, dobbiamo dirlo, però il Verona ce la metterà assolutamente tutta come ha riguardito anche Luppi a Radio Verona per cercare di portare via la posta massima ad Avellino. A proposito di Benevento, ci siamo tornati perché ha parlato anche Mr. Pecchia in conferenza dicendo che è tornato diciamo sulle decisioni arbitrali, non tanto per sottolineare quelli che possono essere stati gli errori ma perché probabilmente con qualche minuto in più forse il Verona avrebbe portato via i tre punti perché c'era un pubblico che spingeva davvero la grande, perché il Verona stava bene, aveva le gambe e aveva anche la lucidità per far male al Benevento, insomma l'ha dimostrato creando diverse occasioni. E' un Verona che ha chiuso il Benevento nella propria area di rigore, soprattutto nel recupero ha attaccato a testa bassa, ha creato due occasioni nitide, una poi è arrivata anche al gol del pareggio e un Verona che chissà poi siamo qui a dirlo ma forse con due o tre minuti in più sarebbe anche riuscito a portare via i tre punti da quella partita e sarebbero stati i tre punti che avrebbero dato una grande spinta giallo-blu in vista poi di tutte le altre partite. Benevento, pubblico e Avellino sono i temi toccati dal mister in conferenza. No, non pesa, certo che nelle ultime partite fuori casa le prestazioni non sono questo e quello che mi fa più rabbia o quello che pesa di più, al di là del risultato che poi è sempre figlia di una buona prestazione, nelle ultime partite è chiaro, le nostre prestazioni togliendo Carpi dove c'è stata a mio avviso una gran bella prestazione, avremo meritato qualcosa in più le ultime trasferte lasciano tanta mare in bocca, anche delusione per quello che siamo in grado di fare per quello che dobbiamo fare, troppa differenza di prestazioni tra quello che facciamo almeno in quest'ultimo periodo è evidente che il passo fuori casa deve essere cambiato immediatamente sotto ogni punto di vista mi piacerebbe avere un mix, un mix che tante volte l'abbiamo dimostrato, questo è evidente noi abbiamo fatto partite sporche, maschie, tante volte le abbiamo buttate per mancanza in queste situazioni questo è vero, fa parte della crescita, nella crescita di ognuno, di un gruppo fatto di e non voglio parlare di bravi ragazzi perché è un gruppo straordinario, di grandi valori che in alcuni momenti oltre alle qualità tecniche e tattiche bisogna metterci qualcosa in più per portarla a casa il risultato, io penso alla partita di domenica dove dopo i 30 minuti nell'ultimo quarto d'ora c'era un'atmosfera straordinaria, bellissima, dove c'era un tutt'uno squadra e 15.000 tifosi, questo è quello che mi piacerebbe vedere sempre di più tirati giù con la testa a cercare risultati, a raggiungere, a volerlo fare e lì c'era di tutto, in quei 15 minuti ho visto una squadra con carogna, con moglia, con cattiveria, con qualità dobbiamo saperlo fare costantemente, la crescita è questa, farla non in due, tre partite e poi scivolare ma farla continuamente, la vera crescita passa di là Abbiamo sentito il mister, c'è anche una sorpresa perché sei qui di fianco a me per raccontare quello che è stato un evento molto importante legato ai nostri partner che ci accompagnano durante questa stagione un luogo molto speciale, raccontaci un attimo di cosa stiamo parlando Parliamo proprio del B2B, ovvero l'evento che il Verona vuole dedicare ai propri sponsor, ai propri partner ovvero tenere bene in evidenza quella che è la linea che lega il club a tutti i propri partner ma mettere come protagonisti al primo posto proprio tutti gli sponsor giallo-blu infatti sono stati loro nella giornata di ieri presso l'Erdolo Meeting Training Center partner tra l'altro del club giallo-blu a parlare, a confrontarsi, a scambiarsi idee, a guardare insieme all'Ellas Verona, al futuro, tante connessioni fra i vari partner, tante chiacchierate e quant'altro E tante novità, no? Perché si è presentata anche quella che sarà il restyling dell'app del Verona che dovrebbe arrivare a fine marzo Dovrebbe arrivare a breve, esatto, presentata all'app del Verona grazie alla collaborazione di MWD Digital c'era MWD Digital, c'era Erdolo Meeting ma c'erano anche tutti i partner giallo-blu 41 aziende se non andiamo errati, ieri c'erano 90 ospiti proprio a rappresentanza di queste aziende e quindi una bella giornata di chiacchierate per guardare il futuro insieme Ma non c'erano solo loro perché è arrivato anche il capitano che purtroppo non ci sarà ad Avellino perché abbiamo visto tutti una espulsione che di finire esagerata forse ancora poco però ha parlato Pazzini, ha parlato dell'evento ma anche della partita di Avellino C'è una squadra che scende in campo al sabato e poi abbiamo visto oggi una bella squadra qui quella degli sponsor giallo-blu che possono prendere molto da voi e voi potete prendere molto da loro Ma sì sicuramente, fa piacere essere qua, tutti i nostri sponsor sono quelli che ci danno una mano cerchiamo di condividere sempre più cose possibili speriamo di regalarci tante soddisfazioni a tutti Non potrai essere con la squadra ad Avellino, sicuramente resterai vicino in altri modi ai tuoi compagni però magari la tua testa è già proiettata contro la spalla Per forza sì, mi spiace molto per quello che è successo però insomma ne abbiamo già parlato, se ne è parlato e quindi purtroppo mi dispiace perché comunque adesso le partite cominciano a diventare tutte importanti a partire da quella di sabato che è un campo difficile ma sono sicuro che i miei compagni faranno una grande prestazione e poi sì, insomma io sto già pensando a quella dopo e cercherò di prepararmi al meglio per fare il meglio possibile Ringraziamo Alberto Pecchio e salutiamo Federico Montesor Ciao Federico Ciao Matteo, ciao a tutti Sei qui con me perché insomma segui da inizio stagione il settore giovanile la primavera affronterà una sfida molto importante intanto raccontaci sabato dove giocheremo e contro chi? È una partita particolare perché andremo a Firenze al di là della bellezza cittadina e dell'amicizia che come si sa lega le tifoserie di Verona e Fiorentina questa sarà una partita veramente sul filo del rasoio come quella dell'andata perché vale la pena ricontare come è finita qualche mese fa a Vigaggio la Fiorentina è andata in vantaggio, il Verona l'ha ribaltata tra l'ottantottesimo e il novantaduesimo per far capire anche qual è la verve di questa squadra adesso la Fiorentina tra l'altro proprio nell'ultima partita ha superato il Verona in classifica che come sappiamo ha pareggiato 4-4 contro il Milan quindi adesso è la Fiorentina la capolista a 36 punti ha solo due punti dal Verona che quindi vincendo, prendendo la posta a Pina potrebbe anche andare al primo posto anche se sarà veramente molto molto complicato proprio per la qualità della squadra viola che gioca a calcio e forse quella avendo visto tutte le partite che più mi ha impressionato per la mole di gioco creata quindi è una partita assolutamente da non perdere da non perdere, tra l'altro si può dire perché avremo i nostri colleghi della Fiorentina che faranno una diretta streaming che noi condivideremo sulla pagina Ella Svrano Giovanili quindi anche questa potrete vederla con noi ci fa chiaramente piacere poter diffondere le immagini più possibili dei nostri ragazzi e di Mr. Massimo Pavanel che vi possiamo assicurare tiene tantissimo a questa sfida Prima di raccontarmi quello che invece è tutto il programma del settore giovanile ti chiedo una cosa sulla primavera una primavera che al di là della prima posizione della seconda primavera che ha davvero sorpreso tutti perché è una squadra in crescita l'ha dimostrato negli altri campionati ma che potesse fare così bene forse non era preventivato non era preventivato da nessuno invece è una primavera che sta facendo davvero tante cose il Milan ha sofferto tanto ha dovuto recuperare la partita quattro volte e il fatto che il Verona si possa ramaricare per un 4-4 col Milan è sintomo di quanto bene stia facendo e di quanto le qualità di questa squadra sono ormai diventate certezze sono diventate delle certezze non è retorica in questo caso anche se è un concetto spesso usato nel calcio è quello del gruppo ma questa squadra si fonda veramente al 90% su questo proprio perché si tratta di calciatori che in gran parte il Verona aveva già l'anno scorso e su cui il Verona e tutto lo staff di Mr. Pavanel e il settore giovanile in generale hanno creduto nel lungo periodo proprio perché citiamo sempre il suo caso ma vale la pena Nicolo Casale che quest'anno ha collezionato tante presenze anche con la nazionale italiana e l'anno scorso aveva iniziato la stagione sì nella primavera ma in panchina sempre con grande umiltà e quest'anno ha fatto anche in varie occasioni il capitano della squadra quindi è un po' il simbolo di questa primavera che vuole giocare e ci riesce ma riparte sempre dalle certezze e dai fondamentali fatti nella maniera giusta perché il gioca semplice in questo caso è veramente un concetto che sta portando in alto questa squadra che è riconosciuto da tutti il merito è di Pavanel il merito è del gruppo il merito è di chi spinge questo settore giovanile però credo che il merito sia anche da chi dietro costruisce giovani calciatori che gli permettono di arrivare in primavera già pronti per fare bene per dimostrare di essere validi per la causa del Verona quindi direi che ci puoi raccontare brevemente insomma adesso stiamo vedendo tutte le partite del settore giovanile ci puoi raccontare dove andranno i nostri giovani e una piccola qualche piccola curiosità insomma sulle squadre che è sulle nostre squadre giovanili che tu sei andato a scoprire nei vari allenamenti è vero tra l'altro ci troviamo qui proprio perché la scorsa settimana abbiamo concluso il nostro percorso abbiamo incontrati tutti gli allenatori e tanti di loro ci hanno detto proprio durante le interviste che abbiamo fatto di essere contenti di vedere i ragazzi della primavera o della prima squadra a livello che sono arrivati proprio perché sono passati anche dalle loro mani ci sono alcuni di questi ragazzi che hanno fatto veramente tanti anni anche nelle categorie minori che andiamo a vedere insieme con l'aiuto della nostra grafica abbiamo le under 17 che andranno a Brescia a fare questa sorta di derby del Garda è una partita sempre molto tirata molto tesa sul campo chiaramente all'andata è stata così sentita dai molto sentita molto sentita e come sempre under 16 under 15 hanno un campionato che affronta le stesse identiche tappe e avranno in questo weekend la trasferta più lunga dell'anno perché entrambi voleranno a Cagliari in giornata entrambi domenica quindi vi faremo come sempre avere tutti gli aggiornamenti sulle partite in diretta questo per quanto riguarda il settore giovanile passando poi all'attività di base quindi quelli dai 2003 ai 2008 c'è da sottolineare al di là dei 2003 che proseguono il loro finora peraltro molto buon campionato affrontando in casa tra l'altro due passi del Mente Godi domenica mattina il Camisano e poi ci sono anche i 2005 che vanno in campionato con l'Albaronico però questa è la settimana in cui tornano in campo i Pulcini perché dopo la lunga pausa hanno finito i loro campionati sostanzialmente tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre torneranno in campo in campionato proprio le due categorie di Pulcini del Verona quindi i 2007 contro l'Avesa HSM i 2008 contro l'Alpo Lepanto tutti quanti in casa tra l'altro quindi entrambi di sabato c'è il Verona che gioca in contemporanea ma siamo sicuri che i genitori sceglieranno i loro piccoli un menù davvero ricco per chiudere quello che è un weekend di calcio giovanile molto davvero interessante visto il sentimento di difficoltà perché tu conosci tutti gli allenatori conosci tutti quindi ti dico quale partita togliamo la primavera che ormai la seguono costantemente tutti ma quale partita consigli di vedere di andare a vedere o di seguire perché magari è quella davvero più interessante del panorama settimanale allora siccome dobbiamo consigliarlo a un pubblico prevalentemente veronese che quindi segue anche la prima squadra ma se volete andare a scoprire qualcosa del settore giovanile questo weekend andate a vedere domenica mattina i 2003 perché sono la categoria più diciamo più vecchia più grandi più grandi dei più piccoli i più grandi dei più piccoli che giocano in casa mentre tutti gli altri giocano fuori e quindi chiaramente è più difficile da seguire un po' difficile magari è difficile andare a fare un salto a Cagliar per vedere le under 15 anche se sarebbe sicuramente uno spettacolo degno però appunto è a due passi del Mente Godi quindi vicino per tante zone della città 10.30 via Fra Giocondo e la Sverona contro Camisano il 2003 di Mister Sasso che hanno fatto tante vittorie di prestigio quest'anno sono tra l'altro il campionato più corposo anche quello con più squadre in assoluto ancora più della primavera che è un altro dato da sottolineare un campionato regionale tra l'altro Federico grazie è stato preciso puntuale come sempre ringraziamo anche Alberto Pecchio che era prima qui con me e che potete ascoltare su Radio Verona per la diretta integrale di Avellino e la Sverona è tutto per questa puntata di HV24 noi ci vediamo lunedì buona serata Radio Verona Radio Verona Radio Verona Radio Verona Grazie.